Eccoci dal parcheggio Stadium, Juventus-Atalanta 2-2, la buona notizia è che la pioggia si sia rivelata clemente, perché dopo una mattinata piuttosto complicata, fortunatamente durante il match, nessuna goccia! Che cosa dire? Cosa dire? Cosa vi devo dire, amici e amici? Siamo sempre alle solite, al di là del fatto che la Juventus abbia vinto una sola partita le ultime sette, tra l'altro il fotofinish grazie alla prodezza di Rugani, tre sconfitte, tre pareggi e appunto questa vittoria, oggi si doveva vincere, ma non a mo' di motto, a mo' di convinzione, a mo' di proprio come preparo la gara, proprio per lo sviluppo della stessa, perché l'Atalanta non mi ha impressionato nella maniera più assoluta, squadra che è arrivata anche un po' stanca probabilmente dalle fatiche di Coppa, mercoledì l'impegno che hanno avuto in trasferta a Lisbona contro lo Sporting, però comprensivamente oggi l'Atalanta fa un gran gol con Coppa sugli sviluppi di un calcio di punizione, bellissimo schema, Pasalic per Coppa, gol. E poi la Juve fa la cosa più difficile, la riacciuffa, la ribalta e poi prendere una rete che non puoi mai prendere nella vita dopo che ti sei fatto un mazzo così per riportarti sul 2-1. La Juve ha preso 11 gol nelle ultime 7 gare, credo che, scrivimi nei commenti perché vado a memoria, non si dovrebbe mai fare, lo so, ma credo che sia tipo la quarta partita di fila dove prendere due gol. Quindi cosa significa? Che non ci sei con la testa, perché quando provi a gettare il cuore oltre l'ostacolo, quando la ribalti, tra l'altro il primo gol oggi, quello di Cambiaso, a me è piaciuta l'azione, è molto bella sull'asse Chiesa McKennie. Poi ci credi, alla fine con Milik, fa il 2-1 e poi ti spegni. Difesa praticamente schierata, una penetrazione di Coppa, giusto due geometrie, 2-2. Io non so cosa dire, non so cosa dire perché sono le stesse cose che ripetiamo da ormai sette giornate. E' anche inutile stare qui a sottolineare come la partita con l'Empoli, a mio modo di vedere, abbia fatto saltare l'ambiente a livello mentale ed è un dato oggettivo perché da quella gara non ci si è più ripresi, quantomeno in termini di punti. Poi ci sono state performance anche migliori, penso che Juventus onestamente non meritasse di perdere a Napoli, ma oggi dopo un primo tempo dove non è creato praticamente niente, ci siamo fatta per il colpo di testa di Miretti, ben disine scato da carne secchi, due punizioni calciate malissimo, non è fatto praticamente niente. Anche l'Atalanta non fa praticamente niente nel primo tempo perché ti impegna esclusivamente quando purtroppo per la Juventus c'è stato un bellissimo gol di Copp, ripresa dove la Juve subito con ritmo magari anche un po' pasticciona però cerca di riprenderla, scamacca, cerca di realizzare il 2-0, cambiaso, Mini che prende il 2-2 e non ci siamo e non ci siamo perché quel gol non lo puoi mai prendere ma è una cosa che abbiamo già ripetuto a più riprese. Poi domani entriamo un po' più nello specifico di queste ultime sette gare, Allegra ha detto un punto guadagnato sul Bologna, poi vediamo cosa fanno le altre, cosa fa Roma, ma il quadro è questo. Copp! Copp non lo pili più mi sa, nel senso che in uno dei miei ultimi video vi ho chiesto ma voi spendereste 60 milioni o quelli che sono per Copp? Mi viene a chiedersi se dovessero bastare 60 milioni per... adesso non voglio forzare perché... Allora di sicuro vi segnalo questa statistica, tra i top 5 campionati in questo avvio di 2024 nessun altro centrocampista ha fatto più gol di Copp, sette solamente inizio 2024. Quindi io credo che l'Atalanta si spreghi le mani ed è pronta a effettuare l'ennesima cessione da urlo per un calciatore che si è rivelato oggi davvero forte. Oggi ha fatto una partita anche in fase di non possesso, due o tre aperture di qualità, gol bellissimo il primo, perché di prima intenzione va a fulminare Chesney e anche il 2 a 2 secondo me è molto bello da parte sua perché va su quella palla, l'intelligenza è di capire dove si tuffare in quello spazio perché la palla di Gene City sarebbe arrivata lì e quindi con un tocco dei suoi è riuscito a trafiggere Chesney che non ha fatto altre parate, io non ricordo parate di Chesney, cioè due tiri praticamente... Tro! Sì, quella su Scamacca, credo. Tre tiri, due gol. No, oggi l'Atalanta era abbattibile perché poi quando la Juventus ha fatto l'1-2, davvero imbucando con coraggio come si era fatto per l'1-1, per il 2-1, magari si poteva trovare la rete che poi avrebbe chiuso a tripla mandata, invece no, invece ti addormenti, il centrocampo si abbassa eccessivamente, vieni colpito tra le linee, Copp è bravo a inserirsi, finisce 2-2. Triste, 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 tutto molto triste, io non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno, ve lo dico seriamente, sinceramente, d'amico, perché uno può dirmi sì, la reazione, ma la reazione io la premio se poi torno a casa con i tre punti, se mi devo accontentare del fatto di non aver perso contro un'Atalanta che era altamente battibile in crisi di vittorie nell'ultimo periodo, io non posso essere contento, in generale non può essere contento di aver vinto una sola partita nelle ultime sette, di cosa parliamo? La Juve non può vincere una partita nelle ultime sette. Se ci abituiamo a questa linea di mediocrità, allora il problema è anche nostro. Voglio elogiare McKennie, che con una spalla fuori uso oggi comunque ha fatto due asses, questo ragazzo sta facendo una stagione strepitosa, mi sembra che sia uno dei pochi, anche nei momenti più negativi, avere sempre la lucidità per cercare di accendere la luce, quindi chapeau a Wes per aver giocato in queste condizioni, per aver fatto di tutto e ve lo garantisco, ecco, voglio soffermarmi su questo aspetto, perché non era affatto scontato che Wes riuscisse a recuperare per questa gara, ma con un tutore poi con grandissima dedizione, con grandissima pazienza, con grandissimo attaccamento alla maglia, ha fatto di tutto sapendo che poi il centrocampo è in emergenza, vedi anche l'ultima indisponibilità di Alcaraz e ha portato a casa due asses, quindi io voglio ringraziare Wes perché in lui vedo lo spirito da Juve, vedo lo spirito giusto, vedo un giocatore che sta anche crescendo molto perché è diventato un assistman, non segna ma fa una caterva di assist ed è sempre positivo, sempre pimpante, pur con una spalla da mezzo servizio, non dimentichiamoci le condizioni in cui è giocato. Se dobbiamo pensare a Juve Genoa di domenica è meglio non pensarci, sarà un'altra partita complicatissima, però avremo un Dujam Lovic in più, probabilmente anche Adrian Rabiot, ma onestamente è inutile fare calcoli, previsioni perché questa squadra è capace di tutto, al contrario di tutto, è proprio il manifesto di questo periodo, delle ultime sette gare soprattutto, è proprio Juventus-Atalanta 2-2, è una partita che da un momento che l'avevi rimessa in carreggiata dovevi portare a casa e scusatemi ma io non riesco a essere, vado a vedere il bicchiere mezzo pieno.